e benvenuti ragazzi a questo nuovo episodio di the school dei test school allora volume metto così sì vabbè beh guarda se non vuoi morire ma passare il tempo con gli altri fantasmi non credo se no anche loro si sarebbero fatti vedere no quindi povera si vede che è una che non ha il senso dell'orientamento anche se devo dire che è un pochino sospetta questa cosa che abbia una mappa della scuola perché potrebbe anche se non credo essersi lei dietro a tutto questo vabbè vediamo come va a finire il gioco e magari ho detto una cavolata va a finire il gioco che 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 Grazie a tutti. 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 Nell'intro, se qualcuno si è fatto caso, perché magari è proprio il fantasma, forse. Visto che non so ancora chi è. Grazie a tutti. Vabbè, ci vuole un po' di allegria in questo momento. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.